va bene eccoci qua signori eccoci qua siamo in un'industria abbandonata e da qua inizierà la nuova serie di vlog eccoci qua all'inizio siamo nel primo capannone come vedete ci troviamo nel primo capannone adesso ci muoviamo in questa zona sì lo so però eccoci qua stiamo proseguendo dopo aver superato il primo capannone andiamo negli altri 44 che fastidio cosa 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 che schifo un fantastico paesaggio adesso cercheremo di entrare all'interno della fabbrica che cosa Che cosa? Questa è la parte più grande La parte di deposito e di costruzione E' abbastanza vuota E niente Questa è la parte principale Della fabbrica Vabbè Te la faccio un po' vedere così Ci ripasseremo Qua ci sono queste cisterne Sì sì Adesso vi faccio vedere un po' in generale Tutto il pezzo Diciamo eravamo al piano 1 Questo è il piano 1 E lì è il buco da dove ho registrato Queste sono le varie cisterne Che abbiamo visto dal sotto E che ora vediamo da sopra E ora cercheremo anche Di salire di più Stiamo salendo dal secondo piano Per visitare meglio Per vedere meglio la zona Gente Eccoci qua Unico passaggio Unica via di uscita Ecco qua vediamo Un pezzo di Oh cazzo Che buco Parte sopra Due cisterne qua Il robo elettrico lì Contatti elettrici qua Bene allora Adesso ci troviamo al Secondo piano Ultimo Terzo Terzo piano C'è anche il tetto Abbiamo qua sopra Il tettuccio Qua ci troviamo nel Deposito Sì E aspetta Sono un sacco di tubi qua Un roba così La porta Stiamo salendo In cima Che schifo Teniamo la luce Voilà Sono pacchi Cos'è sto mostro Cosa serviva È il supporto dell'ascensore Non ho notato Siamo semplicemente Guardi Contrapreso Questo è l'utero Vai affanculo Ok Quindi questo Se cacchia Tipo un intervista vogliamo vedere? o il phon o il phon no metto gli effetti speciali no, mi fa paura no, mi fa paura E un po' di graffiti Ci stanno Vediamo un po' che c'è qua Gente Un sacco di graffiti Quindi in questa zona Diciamo che è abbastanza Ci sono un po' di graffitari Salendo in qualche vandalo Vabbè ci stanno Quello della faccina lì è il migliore Quello lì Aspetta che Ma vicino Che cazzo c'è? Cosa? Come aperto? E' aperto E' aperto Cosa? C'è una macchina C'è una macchina Fermi Perché è aperto? Perché è aperto? Qui c'è qualcuno Cazzo Facciamo una cosa Chiudiamo qua e usciamo Perché cazzo è aperto con lo schifo Chiudiamolo Chiudiamo Ok dai 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 Va bene così Va bene così Speriamo di non incontrare nessuno Allora aspetta ripeti Pippo per la camera Abbandonata nel? 1998 Porca troia E occupa ben 72.300 metri quadrati di terreno Cazzo Porca troia E' un botto Cosa? Presidio di materiali tossici sui terreni Sui terreni? Questa la tengo Cosa? Perfetto Cosa? Cosa? Grazie a tutti.